Arriva la gara con il Brescia, due squadre che non nascondono le loro velleità. Entrare nei play-off, se non addirittura per quel che riguarda il Brescia, centrare la promozione diretta. Non è una bella partita, Salvetti viene preso in consegna da Piangerelli che non lo lascia un minuto. Il Cesena riesce a costruire pochissimo, il Brescia da parte sua invece è fortunato e va in gol con un tiro di Possanzini debiato. Un tiro peffardo che si insacca alle spalle dell'incolpevole Turici. Cesena ancora quota 27, Cesena ancora quarto in classifica.